Di Rux Game, Santiago, impatto frontale col cash test Bigliettini patinati in filigrana, stampati in successione numeraria Sono le fondamenta per la nostra base monetaria Fondamentali per i profitti di Banca Italia Bigliettini patinati in filigrana, stampati in successione numeraria Sono le fondamenta per la nostra base monetaria Fondamentali per i profitti di Banca Italia Combatto con i denti, con i combattenti Contro chi li controlla con i conti correnti Ma tutti contenti, se concorrenti per un salario Quando è chiaro che il dir denaro è sempre più avaro Mano a mano ci chiudiamo in una morsa La tua felicità collerà, parallela la borsa Se sono solo i soldi, quello che pensi La fine è prossima per ritrovarsi schiavi degli stessi I successi hanno un valore monetario E questi rafforzano i fili del burattinaio Come Chaos One, vaffanculo al tuo impresario Mi sembra chiaro che tu guadagni e noi lavoriamo Di profitto e di diritto per i ricchi Come gli spicchi della torta che non pretendiamo Ma ci piano ho visto che per il fisco siamo Un'entità espressa e un valore d'acquisito Bigliettini patinati in filigrana Stampati in successione numeraria Sono le fondamenta per la nostra base monetaria Fondamentali per i profitti di Banca Italia Bigliettini patinati in filigrana Stampati in successione numeraria Sono le fondamenta per la nostra base monetaria Fondamentali per i profitti di Banca Italia Valuta la valuta e sopravvaluta la vita Sete di ricchezze e di loro nell'oro naviga Immagina il salario che sale, che sa di sale Di chi sale, scende scale, il freddo della tua fabbrica Schiavi del denaro in azione comprano azioni Azionando azioni viscide che inaridiscono l'anima Banchieri, fieri, veste di finti sinceri investono Per comprare l'aria che i respiri ti offrono un prestito Mutuo sopra mutuo, resti mutui, i soldi escono Perciò vivrai pagando i pochi anni che ti restano Carte prepagate che strisciate non si leggono Infilate a forza dentro al culo se non si accontentano Sono fortunati che spendono una fortuna Carità col portafoglio che non sono per paura Ed io mi discosto, sto nascosto ad osservare Ricordate, sarò io a farvela pagare Bigliettini patinati in filigrana Stampati in successione numeraria Sono le fondamenta per la nostra base monetaria Fondamentali per i profitti di Banca Italia Bigliettini patinati in filigrana Stampati in successione numeraria Sono le fondamenta per la nostra base monetaria Fondamentali per i profitti di Banca Italia Rock Chub, Produzioni, Arena 0, 51 nel posto Virux, Santiago, Mainfu, più Vip, The Lost Album, 2011 Il principio informatore Quello che maneggia l'oro detta legge Chiudono un sacco di fabbriche e noi li vediamo scorrazzare con le loro limusine di merda Lo sai, dovresti avere un po' più di pazienza Se invece ne ho le palle piene Loro decidono come devi vivere Ti mettono in linea di partenza E il nome del gioco è Corri per il tuo padrone Noi siamo tutti morti di fame Ma ci azzanniamo l'uno con l'altro D'accordo, ascolta Eccoci qua Ora siamo pronti Ma ricordati Tuffa come ti pare Ma io ti romperò il culo Tuffa come ti pare per quegli strafottutissimi Arena 051 contro quegli strafottutissimi nerd non puoi fotere con noi perchè noi siamo i più bastardi della cricca ad ogni sismo è un maremoto giochiamo a freccette con la tua foto presto sguardo fisso perso nel vuoto lo zippo te lo presto così puoi darti un fuoco toro loco, togo e non poco dal logo nel luogo capisci il ruolo che ricopro testimone del suolo testimone del suono testamento in equilibrio su una mina anti uomo uso il tritino per tritare il tritolo clic, esplosivo, corrosivo come il cloro i miei zombie mi fanno il coro a te ti fanno il cuolo il portafoglio è la catena d'oro riemergo dalla selva più oscura del sottosuolo l'inferno è sulla terra, quello è solo il purgatorio elettrizzante per i fulmini che ingoio ti spacco i gioielli spaccandoti il sospenso Arena 051 faccia a faccia resti muto me ne foto perché se non fotti sei fottuto le fronte dell'ordine sono state mobilitate per conquerare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite in genti forze di volontà da parte loro gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che stacchi loro il cranio e infatti essi hanno precisato dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri è appunto il cervello che è fuaiuso 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 fuaiuso